Ecco le squadre entrano in campo, ultima di campionato, girone Chieti, categoria giovanissimi, ultima di campionato, Virtus Castelfrentano, Miglianico Calcio. Abbiamo la classica formazione in Porta Matteo, 2 Ceroli, 3 Federico, 4 Guido, 5 Gabri, 6 Lorenzo, 7 Lele, 8 Nicola, 9 Gianluca, 10 Michele, 11 Teidi, il nostro capitano. Ecco le entrate in campo. I nostri calciatori, tutti caricati, il nostro Guido ha superato il test, può giocare, ecco si salutano. Vai Michele, se Frugol deve venire da me, ecco si salutano, vanno a salutare le panchine avversari, qui c'è il Miglianico, qui c'è la panchina del Miglianico, qui ci sono i nostri, tra pochi secondi inizierà la gara. Il nostro mister, il nostro mister Gabri, in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo. Sì sì, ok, tutti caricati, su. Presidente, la ripresa è a... Sì, è come vedo. Ai tifosi nonostante tutto. Eh sì sì, ecco. Ecco la nostra, sempre presente. Qua abbiamo il mister Giulio. Sì sì. Enrico. Ecco Enrico. Ecco la panchina del Miglianico, che basta usare i compagni dei nostri. Vabbè. In bocca al lupo. I guardalini, sì, è cara, non sta là. È di qua. Eh, all'altro lato, l'altra metà. Dove sta là? Eh, perché quello va sotto e tu vai sopra. Sì, ma rimani verso là, appunto, al centro campo. Ecco, inizia l'incontro, preciso, ci abbiamo due o tre minuti, ecco. È iniziato l'incontro. Ecco, inizia 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 l'incontro. Grazie.